Entra per lavorare, trovi la paura addosso, sembra che qualcuno ti salta. Sì, io sono entrata, ti dico, lo trovavo, proprio tremava. Dopo il furto della notte scorsa erano ancora spaventate le cuoche del servizio mensa quando stamattina siamo entrati nella scuola dell'infanzia Paolo Manfrini in via della Marina Fano. Hanno avuto paura di trovarsi faccia a faccia con i ladri. È stato questo infatti il loro primo pensiero quando hanno varcato la porta d'ingresso. Le luci erano accese, le ante degli armadietti spalancate, molti oggetti e alcuni giochi dei bambini a terra. Hanno così deciso di fare un giro tutte insieme attorno all'edificio ma per fortuna i malviventi si erano già dileguati. Ho trovato questo giù per terra che sarebbe la reghina del congelatore. Vedi? Giù per terra. Poi c'è questo qui, questo residuo che hanno lasciato, che non c'era perché noi puliamo perfettamente la cucina quando andiamo via. Poi in lavanderia c'era la luce accesa, mi può seguire. E noi l'abbiamo seguita fino ad arrivare a questa stanza, quella presa di mira dai ladri. Ora gli armadietti tutti aperti. A Claudio, il bidello comunale, gli mancano due paia di pantaloni, una maglia blu, un paio di scarpe da ginnastica e quanto? Basta, vero? Alla cintura? E poi c'aveva le chiavi della dispensa infilate nel pantalone. Continuando a controllare gli oggetti mancanti in nostra presenza, si sono accorte che sono stati portati via anche degli accendini e un asciugacapelli. Secondo le cuoche, per introdursi all'interno della struttura, i malintenzionati avrebbero provato ad entrare da una finestra che dà sulla cucina. Si può vedere infatti che la zanzariera è stata tagliata, poi una volta fallito il tentativo sarebbero passati da una finestra laterale. E come ci raccontano, questa non è la prima volta che rubano la scuola Manfrini. Le scorse volte, oltre ad aver rotto una macchinetta del caffè, avevano preso diversi prodotti alimentari, come il pane e l'olio. È un po' isolato, rimani in fondo della via, allora fanno le cose che devono fare con la santa calma, perché non trovi magari segni di fretta, perché girano tutto. Non per dire che sono entrata in una classe e hanno preso la fuga, girano dappertutto. Ci sono le telecamere in questa struttura? No, no. Nel giro di un anno e mezzo, due anni, sarà la settima, ottava volta che vengono. Io e la cuoca che non c'è che a casa. Lei viene prima, alle sei e tre quarti, insomma anche lei ha paura, perché logicamente non sai giornalmente chi ti trovi di fronte. Così vivete nella paura. Così, insomma, dai, non è possibile, cioè nel giro di venti giorni è la terza volta. Anche nel confronto di questi bambini, perché sentono le voci, entrano all'asilo, sono stati ladri.